La Puglia del Vino, protagonista insieme alle altre regioni italiane di un ciclo di iniziative collegate alla mostra verso il 2015 La Cultura del Vino in Italia, organizzata dal Ministero delle Politiche Agricole ed ospitata a Roma dal 26 ottobre al 30 novembre nello splendido complesso del Vittoriano. Un percorso espositivo fatto di immagini, oggetti ed incontri che offrono una sintesi artistica della millenaria tradizione vitivinicola del paese, un racconto dell'identità, delle radici e della biodiversità che il mondo del vino pugliese intende portare in dote a Expo 2015. Partiamo da questo impegno per poter arrivare ad Expo 2015 nel padiglione che è dedicato solamente al vino, dove all'interno di questo padiglione dobbiamo raccontare che cosa sono le nostre tradizioni, le nostre vocazioni, da dove siamo partiti, dove siamo arrivati, ma soprattutto dobbiamo anche raccontare che cosa è il nostro mondo rurale della pugliese. Su questo ci puntiamo molto e ci stiamo già organizzando. Proprio ieri abbiamo fatto un incontro al Ministero su Expo 2015 e stiamo già incominciando a lavorare su come organizzarci all'interno di questo padiglione. La mostra con il racconto dei luoghi, delle tradizioni e delle realtà produttive vitivinicole di eccellenza è solo l'inizio di un percorso di avvicinamento che approderà nella realizzazione del padiglione del vino all'Expo 2015. Molto bella e dimostra quanto è bella l'Italia, quanto sia straordinario il nostro paese. Forse ci vorrebbe una mostra per la consapevolezza, perché penso che in Italia non siamo consapevoli fino in fondo della grande fortuna che abbiamo, che è la nostra terra, cioè dove poggiamo i piedi, e dei prodotti straordinari che vengono fuori grazie anche al lavoro di imprenditori che nel nostro mondo, nonostante le difficoltà, sono andati avanti con la schiena dritta e hanno portato risultati. L'appuntamento al complesso monumentale del Vittoriano non è stato però l'unico a caratterizzare la settimana di promozione dedicata al vino pugliese nella città eterna. Sabato 26 ottobre, presso l'Enoteca di Biagio, si è infatti tenuto nell'ambito del progetto Puglia Top Wine Destination un road show di approfondimento dedicato al primitivo e organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia. A condurre la degustazione è stato Alessandro Scorsone, uno dei più importanti critici italiani del vino e da sempre attento conoscitore ed amante del mondo vitivinicolo di Puglia. Guardate quanta gente veniva oggi a assaggiare il vino della Puglia, forse dieci anni fa non avremmo avuto lo stesso successo. Evidentemente quel messaggio è passato, l'idea non solo della qualità ma della serietà. Ecco, questa è un'altra cosa che secondo me diventa molto importante. e quando si assaggia un vino pugliese, quando si compra un'etichetta, sicuramente si assaggia un vino che ha un giusto prezzo il che non vuol dire un buon rapporto qualità-prezzo, assolutamente io sono contrario a quel rapporto lì. Io sono maggiormente favorevole a quello che è il prezzo-qualità. E quindi sulla qualità credo che loro siano veramente in questo momento ad un livello grandioso. E tra l'altro c'è un vino pugliese, del quale non voglio fare il nome altrimenti sembra che faccio pubblicità e non voglio farla, ma c'è un vino pugliese che mette d'accordo tutte le guide, quindi non esistono tutti i vini che le guide sono tutte fatte d'accordo. E questo vino sta diventando un fenomeno di culto, stranamente viene dalla Puglia.